ho sempre cercato di dare un senso alle cose ci deve essere un motivo per cui io sono per essere riconosciuto per chi sono e per ciò che sono niente di più niente di meno per la gloria per l'approvazione ma per la semplice verità di questo riconoscimento e devo riuscire a ottenerlo se voglio vivere o morire con dignità a torino nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell'unità d'italia il presidente della repubblica inaugura il monumento al pante dopo avere passato in rassegna un reggimento di formazione e i cento mila fanti in congedo scritti intorno alle notte infatti tacere bisognava andare avanti i medici con i loro medaglieri pitti d'oro e d'argento e i loro nomi notissimi o sconosciuti nomi di cittadini che bene verità il finale sua maestà il re ha passato di vista i fatti convenuti alla capitale in occasione della loro imponente adunata si sono sacrificati perché noi potessimo essere patria una indivisibile compiuta e libera ho sempre cercato di dare un senso alle cose oh no oh 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 oh